musica bello a tutti ragazzi sono ricorda e benvenuti nel decimo episodio della let's play musica proprio così siamo nel decimo episodio e prima di iniziare devo dire alcune cosette e poi partiamo subito con la nostra avventura allora vi dico che avevo già registrato il decimo episodio ma per motivi di quel cazzo di frazzo ha registrato l'episodio senza audio quindi non mi piace a me senza audio non l'ho fatto quindi non l'ho caricato ora l'episodio 10 è questo che sto registrando appena adesso mi dirò cosa ho fatto nel decimo episodio iniziamo poi i blog di ricade li farò non rispetto alla lista quindi raga quando passerò sempre una settimana quando mi pare a me praticamente farsi video perché dipende dagli impegni perché se io ho un giorno libero posso fare pure i video di posso fare pure tre video in un giorno quindi ma che cazzo è quel salag quindi nel discorso episodio siamo andati in grotta come vedete all'inventario preparato e avevo trovato scusate ma avevo trovato altri otto diamanti si altri otto diamanti poi avevo mi sembra che non ho fatto più niente oggi invece volevo fare cominciare a fare la mia prima farm quindi aspettacelo ci riforniamo un po' di legna un po' di legna scusate la voce scusate un attimo un attimo allora scusate la mia sorella ehm 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 un attimo scusate allora un attimo che palle mentre farsi video vengono a parlare allora che devo fare prendere la mia comunque volevo dire agli accessi medesimo che è uno che ho incontrato su un server che a me non piacciono le persone critici cioè a me io le critiche le accetto cioè a voi non piacciono i miei video non vi non vi avevo assegurati però almeno non venite a scassare la minchia dite il tuo canale fa schifo il tuo canale è così il tuo canale è qua là ahahah fai schifo perché dice che è un canale meglio di me ma a me che me ne frega io ho un canale mio a me io gli ho detto che a voi piacciono i video che faccio io quindi perché voi viene a scassare la minchia mamma mia e quindi sono andato in questo server e ho detto ehm fai schifo il tuo canale è così bla bla e quindi ho detto a me piacciono le critiche io ho accetto le critiche ma fino a un certo punto cioè se tu devi venire fino a casa mia a dirmi che il mio canale fa schifo tu hai un canale mio del mio l'unica cosa che ti risponde è vaffanculo cioè e poi volevo ah assolutamente ragazzi il video della macarena del secondo vlog ha raggiunto 95 visualizzazioni in un giorno mamma mia wow grandissimo grandissimo spero che continuerò ad andare così perché se vado così forte sono davvero felice ehm se avete altre richieste non mi aspettate commentate iscrivetevi cioè commentate mandatevi le richieste basta scrivere così e clicca di fatto mio punto è la richiesta scrivetelo sempre sotto i vlog perché se lo scrivete sotto questo video io non leggo i commenti quindi se volete le richieste scrivetelo al vlog episodio 2 quindi se avete che non c'è tante belle richieste tutte le due scrivete le richieste porca puttana mi sono dimenticato il cibo ehm che più ahhh che mi sono dimenticato porca puttana di piantare le canne nella sabbia perché ehm simone carbone mi ha detto che le canne nella sabbia crescono più velocemente quindi devo provare assolutamente perché a me mi servono per l'encanto e per per sì per le librerie appunto quindi prendiamo scusatete questa giornata è solo dedicata sull'alta da legna e ora per renderla un po' più movimentata andiamo a uccidere qualche mobbi mobbi vieni qui ah la the world scusate ma abbiamo dei problemi grossissimi perché ehm dobbiamo preparare ancora da capo la mappa i server e quindi abbiamo dei problemi nel registrarla quindi ehm abbiate un po' di pazienza stiamo preparando la mappa i server e quindi e so e so quindi non voglio scossarvi ah i cecchi ah nooo perché per chi non lo sapete questa è la mia miniera di arenaglia ehi che cosa ti fai qui dentro cazzo mia figlia di puttana eh sto facendo il stress aaaaah ma Michela ma Michela ma che cazzo se guardaselo se come l'hai usato ma io non mi faccio battere da un coglio anzi se mi faccio battere allora abbiamo a 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 Sì Comunque presto dovrò fare Un video speciale con Archie Sempre se Archie vuole Perché in questo momento Siamo un po' litiganti Oh mio dio Iscrivetevi con l'Arco in canto Ecco perché mi stava facendo il culo L'ho zippato l'Arco Allora Io volevo fare La mia prima Ma farm Però qui L'unico posto per farlo è qui C'è anche della sabbia Quindi volendo Io potrei fare così Un l'orgore Un certo territorio della mappa Dove Io qui volevo mettere Le carne da zucchero Quindi volevo fare Una Due 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 Quindi mettavo una qui Una qui Un'altra Contavo qui intorno Due 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 Occhi No A prendere Le nostre carne Canne da zucchero Allora Scusate se questo è l'episodio un po' Non è già certo Però vorrevo fare un episodio diverso Dedicarlo solo Alla casa Con Occhi Trampano Le canne Non male Qua siamo Momentane Di Allora Sto pensando Come cavolo Fare La farm Forse dovrei Farmi un progetto Un progetto Quasi parola Andar Probate Non Par Ditarne Spar Se Quella Pera Orando potrebbe fare ok così potrebbe pure andare la mia coltivazione è abbastanza ampia ok la coltivazione ora delle canne rimarrà periodicamente così mentre quella del del grano e delle carote quando l'avremo in futuro volevo farci volevo farlo allora 4 4 sede su potrebbero pure andare lo facciamo per ora qui no ok questo potrebbe andare bene così allora questo così 1 1 2 ok ecco fatto che dovrebbe andare bene ok così potrebbe pure bastare scusate comunque per questo episodio è tutto per farmi perdonare della perdita dell'episodio 10 farò un secondo video della Let's Play oggi quindi vado a mangiare e ci vediamo nell'undicesimo episodio spero che vi sia piaciuto questo piccolo episodio della Let's Talk World che sarà l'undicesimo questo è solo per scusarmi e ci vediamo nel prossimo episodio ciao